Nei primi giorni di gennaio saranno installate 35 telecamere nuove nei punti strategici della città, sfruttando la fibra per garantire maggiore sicurezza alla città di Battipaglia, aiutando con gli occhi elettronici le forze dell'ordine nelle indagini. L'amministrazione ha chiesto al prefetto che i fondi lasciati dalla Camera di Commercio per delle telecamere venissero spesi per installare gli occhi elettronici, specie sulla fascia costiera, anche dopo i furti che si sono registrati nei lidi, per fornire maggiore sicurezza anche agli imprenditori balneari.